Salve signore e signori, buonasera, benvenuti alla ultima serata dei poveri e smendorati che ho vinto la risultati. Siamo nei camerini e io già mi sono cambiato, quindi non sono più Giovannendone Stazzone, ma sono diventato un po' tutto signore. Guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella, no, eh, queste cose no, queste cose. Capì, di petto, petto, di Michelangelo, muscoloso, eh, di petto, di petto, di petto, di petto. Ti piace un po' di tanto questa sera? Guarda, me lo voglio andare, basta! Aiutatemi, solo chi si può. Beh, non mi muoversi, penso alla stella! Beh, non è il te, vanga! Buonasera, una tea! Allora! Cos'è la cos'è? Dobbiamo insegnare a questa ragazza ad accrontare le sopracciglia. Cos'è? Chi ti ha una scusa? Non mi troppo già andava! Allora, ci siamo? No! Ci stavo cambiando, però attenzione perché ora che mi levo la paglietta, la paglietta è di adesso. C'è Giovanni Alenco, se lo puoi degustare, che è... C'è, su piedi sei calzetti rossi, ma non mi lo metti un po' di... Stai dicendo a papà, non mi lo metti un po' di... Non mi lo metti un po' di... Sorridi che sei su internet! Come, su internet? Vergogna, porco! Dov'anni a tutti, dopo sono il TV! Ieri Getanogati mi ha baciato in bocca, veramente, quindi lo salutiamo con un caloroso abbraccio. Sono avvicinato! Figli di... Ciao!